Non ci sarà più spazio per i nostri avversari. Avete governato per 20 anni, sempre le stesse famiglie. Avete occupato tutti i posti migliori di Sirigliano. Avete venduto sempre tutti i posti e già avete deciso i prossimi posti di vincita chi saranno assegnati. Io questo non ho accetto. Non lo ho accetto. Perdoatevi. Cari amici, voglio concludere. Consentitemi questo mio sfogo, sapete? Non amo fare e parlare in questo modo. Ma quando ti attaccano in questo modo, molti mi hanno chiesto di difendermi. E io ho cercato di farlo nei miei migliori dei modi. Concludo con una frase che mi ha portato fortuna lo scorso anno, anche se abbiamo perso le elezioni, anche se per noi quelle elezioni sono state, noi le abbiamo le. Siamo stati, siamo stati, come dire, ingannati. Ci hanno truffato le elezioni l'anno scorso con le false residenze. Il giorno è delitto dell'azione. Andate dicendo che siete in maggioranza. Perché avete fatto le residenze di forte. Altrimenti la lista unì di Sirigliano si aveva già andato a casa l'anno scorso. E se vinceremo noi, vincerete voi. E se vincerete voi, vincerà il popolo di Sirigliano. E se vincerà il popolo di Sirigliano, vincerà la democrazia. E se vincerà la democrazia, vinceremo tutti. Ci vediamo tutti davanti alla nostra sede. del Presidente Dona!